Questa è la ricerca dell'avventura. E all'interno dell'avventura la ricerca dell'innovazione e dell'invenzione. Copernico ha un principio che è quello di valorizzare spazi di lavoro per comunità professionali. I nostri palazzi hanno innanzitutto un redesign, vengono ripensati con attenzione al consumo delle risorse, dell'energia e al consumo dello spazio. Il concetto di eccellenza che noi implementiamo all'interno di Copernico parte dalla persona. Attorno alla persona si disegnano dei percorsi dove la luce, la musica, l'arte sono costantemente presenti. Il benessere del lavoratore. Questo fa sì che questi palazzi divengano centro energetico. E quindi senz'altro ritrovo gli elementi che sin da piccolo mi hanno dato la ricerca costante di inventare su qualcosa che però è esistente e può essere ottimizzato invece di consumare il mondo sempre di più. A presto! A presto! A presto!